Musica Allora a parte la prova, come abbiamo detto si tratta dei Gran Premio Iniziano le scarabucce tra gli arredi che occupano le prime posizioni del gruppo C'è Mocchesta, hanno scato i compagnati Bones, 40, 15 Abbiamo visto anche Galli nel primo gruppetto Nel gruppetto che si sta avvantaggiando insieme a Telescudin che ci prosegue Tre giri in termine, ritornate alla conclusione E' un'attenzione perché se questo è davvero che si sta avvantaggiando L'altra camera è la 40 Quando parte anche con il giocatore di Porto di Nicola Mamona Quindi c'è Bones E abbiamo detto anche Nicola Logalli E le proprio Galli che stanno giocando in queste fasi di borsa Come tornate dalla conclusione E di nuovo il vantaggio, il calcio di gruppo sta recuperando Giamola Logalli insiste ancora per parlare Se non si trova il gruppo di Coppa di Idoceva Il gruppo che sta ritornando a combattere in questo istante Idoceva, Idoceva Che parte a Ziettini sopra, che sta allungando Irijevic a ruota C'è Poscaro Ecco il passato, suonerà la campana Irijevic in testa Irijevic in testa Irijevic in testa Irijevic in testa Che inanzi che si è passato molto bene Nella parte esterna Inanzi che sta avantiando posizioni Vada a spiegare Idoceva Fa l'antiesa di abbiaccare Poscaro Che sembra essere più veloce Sulla vecchia di un posto a quello da Idoce Inanzi che deve uscire Cora Poscaro Alla svolando su Idoceva Le prime posizioni allo spin Per fare l'idea Vada a Bones Cora Poscaro Cora Poscaro Irijevic in testa Cora Poscaro Cora Poscaro Cora Poscaro col cartello d'Europa di inserimento a squadra e batti a finanzi vince il gran premio Rossetti ma anche Gabriele Cospero Italia c'è la consegna anche ovviamente della maglia della medaglia, della pascola della 6 giorni delle cose di Lorenzo e dello spumato della tenuta il ritocco che viene consegnato amici di cuore da Diego Terzotti questi signori e signori sono i figli di quei massivitati da dire posto a mangiare finanzi di comandamenti